ecco qui un contafili di alta qualità si tratta di una lente che si può piegare come vedete ha il suo astuccio per poterlo trasportare tranquillamente e comodamente e si apre in questo modo la struttura è in metallo e la lente è formata in realtà da due lenti sovrapposte ciò garantisce un'elevata qualità sulla base vediamo che si possono fare misure in millimetri e in pollici è una lente molto comoda, trasportabile ecco qui si vede lo spessore proprio per la costituzione di due lenti sovrapposte questa lente viene chiamata contafili perché è nata proprio per contare i fili del tessuto successivamente è stata usata anche per altri scopi come carta stampa franco bolli, monete, in questo caso vediamo il filo un lavoro fatto all'uncinetto un esempio di perline qui c'è del legno inciso e pirografato questo è stato lucidato e qui invece vediamo un tessuto i contafili possono avere diverse dimensioni e diversi ingrandimenti questo è un 6 ingrandimenti ma ci sono anche contafili più piccoli che ingrandiscono maggiormente se siete interessati li trovate sul nostro sito elettronicadidattica.com continuate a seguirci nei prossimi video iscrivetevi al nostro canale elettronica didattica su youtube grazie a tutti alla prossima ciao ciao ciao